buongiorno e benvenuti nel mio canale oggi vedremo una cosa piccola ma secondo me molto utile vedremo cioè come copiare più parti di testo in uno smartphone con la tastiera g board di google che è disponibile per android e anche per ios per iphone ipad nel browser se noi vogliamo selezionare parti non adiacenti di testo non lo si può fare se io per esempio seleziono questa parte poi se tengo tenuto premuto ctrl se seleziono quest'altra parte automaticamente mi si disseleziona la prima parte però come abbiamo visto si può risolvere con una estensione qui ho pubblicato il post come fare e con questa estensione e c'è anche il video tutorial ovviamente questi riferimenti li metterò nell'articolo che sarà linkato sotto il player del video e questo è il link per la estensione da installare su chrome per copiare anche del testo non adiacente però con g board si può copiare del testo non adiacente anche sullo smartphone e questo è molto utile perché se non smartphone in genere le schermate sono molto più piccole che nel computer e quindi delle volte si deve copiare magari una parte di un testo che sta in una pagina e poi un'altra parte che sta magari nella pagina successiva e questo crea delle difficoltà con g board si può fare perché g board tiene conto della cronologia dei testi e copiati degli appunti è invece possibile copiare più parti di testo su word e su libreoffice tenendo premuto ctrl vediamo come si fa per esempio questo è un file di word per esempio voglio copiare il primo paragrafo e il terzo tengo premuto ctrl seleziono il primo paragrafo quando vado a selezionare il test il terzo paragrafo se tengo premuto ctrl rimane selezionato anche il primo a questo punto posso andare su ctrl ci e viene copiato entrambi i paragrafi posso andare per esempio sul blocco noto per farvi vedere incollo e questi sono stati copiati tutti e due i paragrafi ecco qua il primo paragrafo che comincia con l'orin ipsum e il terzo paragrafo che inizia con etiam prezium questo lo si può vedere anche su libreoffice sull'applicazione writer di libreoffice facciamo lo stesso procedimento tenendo premuto ctrl selezioniamo il primo paragrafo poi selezioniamo il terzo paragrafo poi magari selezioniamo anche il quinto paragrafo andiamo adesso su ctrl ci si copiano questi tre paragrafi e non gli altri due che non sono selezionati si apre il blocco note si va su ctrl e v e verranno incollati tutti e cinque i paragrafi questo è il primo il secondo inizia con etiam il terzo perché inizia con proi eccolo qua con ctrl si può copiare più parti di testo sia su word sia su libreoffice nell'applicazione documento writer e adesso vediamo come con gboard si possa fare lo stesso da smartphone android e probabilmente anche da ios iphone e ipad anche se io non ho potuto testare perché non li possesso ovviamente la prima cosa da fare quella di installare gboard si va su google play su play store si digita gboard eccolo qua io l'ho già installata ma se non l'ha installata la installa e quindi ce l'ha nel telefonino poi bisogna impostarla come tastiera predefinita come si fa si va su impostazioni si va sulla ricerca si digita tastiera ecco qua tastiera virtuale si tocca sopra ecco qua tastiera virtuale si sceglie gboard come quella predefinita vedete tastiera predefinita gboard dopo che si è fatto questo possiamo utilizzare finalmente gboard per copiare più parti di testo vediamo come si può fare per esempio con un libro abbiamo per esempio kindle ecco fatto questo magari io se io voglio copiare che so la parte finale di questa pagina e la parte iniziale della prossima come faccio aggiunto bisogna impostare gboard per poterlo fare quindi si per esempio faccio vedere si apre whatsapp si apre una qualsiasi chat di whatsapp si tocca sul campo di testo e come vedete viene subito visualizzata la tastiera gboard la tastiera gboard qui in alto ha delle opzioni che se non si vedono si tocca su questa iconcina del maggiore o minore per visualizzarle e si tocca sul sul testo su questa icona forma di testo poi ci sono anche molte cose interessanti tra cui le emoji da creare personalizzate che magari potremmo vedere un'altra volta adesso vediamo il testo si va sul testo qua e in genere si visualizza questa questa situazione cioè con copia più elementi e incolla di più velocemente bisogna attivare questa impostazione cioè attivare gli appunti per poterli copiare e poter copiare più elementi contemporaneamente gli appunti di gboard conservano per un'ora i testi e le immagini che copi consentendoti di incollare velocemente molti elementi in una sola volta ecco il concetto si può tenere gli appunti per un'ora su gboard anche più appunti quindi bisogna attivare gli appunti in questo modo dopo aver attivato gli appunti si va sulle pagine appunto che volevo copiare si volevo copiare a qualcune parti di cui di questo di questo libro per esempio copio l'ultima parte vado su copia e questo verrà copiato negli appunti poi per copiare magari l'inizio dell'altra pagina ad un'altra pagina e copio l'inizio dell'altra pagina vado qui su copia e ho già copiato due testi il primo testo comincia con troppo asettica il secondo testo comincia con addenta una fetta biscottata poi copriamo anche un altro testo l'unica consolazione di karma eccetera copriamo anche questo dopo aver copiato io posso per esempio condividere questo testo con whatsapp su una chat di whatsapp apro whatsapp tocco qua visualizzo qua tutte le opzioni vado sulle opzioni degli appunti qui visto che ho attivato la cronologia degli appunti ecco che sono già mostrati tutti gli appunti che ho fatto e quindi io posso per esempio inserire toccare qui per la prima parte dell'appunto che ho copiato poi posso toccare per inserire la seconda parte dell'appunto e poi toccare su inserire la terza parte dell'appunto e magari poi inviare i tre testi tramite whatsapp in questo modo come dice la prima parte l'unica consolazione o se la seconda parte addentra una fetta biscottata e la terza parte adesso non mi ricordo troppo asettica e omologata eccetera questo lo posso fare naturalmente non solo su whatsapp lo posso fare anche su per esempio su word apro word vado sul più documento vuoto per esempio qui tocco vado sempre sul questo mi si apre ovviamente g board essendo la tastiera predefinita tocco su sull'icona del testo degli appunti e come vedete posso collare il primo periodo copiato poi magari posso anche saltare una riga tornare sugli appunti e incollare il secondo periodo copiato poi saltare un'altra riga tornare sugli appunti e copiare il terzo periodo copiato come vedete è una cosa secondo me molto semplice ma anche molto utile che può essere usata con tutte le applicazioni per copiare più parti di testo ovviamente questo si può fare anche con le immagini perché g board e tiene conto anche delle immagini copiate e che quindi possono essere recuperate dagli appunti nello stesso modo come abbiamo visto che abbiamo fatto con il testo secondo me è interessante magari la prossima volta vedremo un'altra possibilità andando per esempio sull'emoji possiamo vedete aggiungere dei pacchetti di emoji se ne sono tantissime e possiamo aggiungere anche una delle emoji personalizzate ad esempio andiamo qua su mini ci verrà fatto una foto al nostro volto e magari ci mostreranno tutte le emoji che sono compatibili con la nostra espressione con il nostro volto per poterle aggiungere e personalizzare e inviarle o incollarle in qualsiasi parte vogliamo e questo è tutto alla prossima volta grazie a tutti